Scatta il sequestro da 8 milioni e 274 mila euro dei beni riconducibili agli eredi dell'imprenditore di Porto Empedocle Giuseppe Burgio, deceduto un anno fa. Lo ha deciso la sezione misure di prevenzione del Tribunale di Agrigento, in base a quanto emerso a seguito dell'inchiesta discount, nel corso della quale Burgio era stato arrestato nel 2016 con l'accusa di bancarotta fraudolenta e poi condannato nel processo che ne scaturì a 8 anni nel 2018. Nel dettaglio si tratta di 5 immobili situati ad Agrigento, Porto Empedocle, Palermo e Gela, a cui si aggiungono 14 autoveicoli e 11 rapporti bancari e assicurativi. Ad eseguire il provvedimento sono stati i poliziotti della divisione anticrimine di Agrigento insieme ai militari del nucleo di polizia economica finanziaria della Guardia di Finanza. Eseguiti anche il sequestro e la confisca di due magazzini a Real Monte del valore complessivo di 50.000 euro. Burgio era un imprenditore attivo nel settore dei supermercati e dalle indagini, secondo quanto ricostruito da investigatori e inquirenti, era emersa la sua pericolosità sociale, tanto che venne anche disposta la sorveglianza speciale.